Presso la biblioteca di Hastings si è tenuto un evento per i bambini della comunità italiana. L'emozionante presentazione del libro Olga Lablatta di Cinzia Ciaramicoli è stato un evento organizzato con cura e passione dal Comites di Londra, rappresentato sul posto dal presidente Alessandro Gaglione. Come presidente del Comites, Comitato italiani all'estero di Londra, sono veramente molto contento di essere oggi qui a Hastings nella biblioteca comunale. Per un evento molto 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 importante. Il primo, direi, evento, come mi ha detto il direttore, prima di internazionale ed è molto bello appunto che è un evento della comunità italiana. Sostanzialmente Cinzia oggi racconterà ai bambini italiani e non, perché questo è un evento che è rivolto ai bambini, la meravigliosa storia di Olga Lablatta. E lo farà in italiano. Lo farà in italiano, come ho detto, ai bambini italiani, quindi figli di italiani che sono qui, ma anche a persone di altre nazionalità e di altre lingue che parlano altre lingue, che hanno chiesto di poter partecipare e di potersi accostare alla lingua italiana. Questo è veramente molto bello. Sono anche molto contento di essere qui perché qui non siamo a Londra. Noi ci chiamiamo Comites di Londra, ma Londra è tutta la giurisdizione consolare di Londra che è veramente molto molto ampia. Qui siamo a due ore più o meno di macchina da Londra. C'è una comunità molto interessante, molto interessata alla comunità italiana, far parte della grande comunità italiana. E quindi per noi, come Comitato Italiano all'estero, è un piacere essere qui oggi presenti per dare la nostra vicinanza a questa comunità italiana Hastings. Hello, my name is Henry Young and I'm a librarian here at Hastings Library, part of East Sussex Libraries. The library is such an important part of our community and we have lots of free story times and rhyme times going on. But today I'm very, very excited because we have Cinzia here and she is doing an Italian, our first ever Italian-only story time. We're very, very excited. Sono Cinzia, Cinzia Ceramicoli e sono qui a Hastings da circa sei mesi e ho incontrato Henry un mese fa e abbiamo proposto questo progetto di fare delle storie in italiano perché abbiamo capito che in questa comunità ci sono diverse famiglie italiane che non vedono l'ora di ascoltare storie dette in italiano. What she said. Prima del racconto i piccoli partecipanti hanno preso parte a un coinvolgente workshop. Qui hanno dato vita alle zampette di Olga con la loro creatività. Questo evento gioioso è stato un chiaro segno della vitalità e dell'impegno della comunità italiana. Segui Complitaly sulla tua Google TV o sul tuo telefonino cercando nello store Complitaly Plus. Seguici sui canali social di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok oppure sul nostro sito www.complitaly.uk. Regalaci un like, seguici e contribuisci a far crescere la tua televisione italiana nel Regno Unito. Complitaly TV, il tuo canale sempre.